...di tracciare e di portare gli accompagnati qui sul palco... Lui, 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 che non altro che lui, lui, però gli dettorniamo degli aggettivi, degli aggettivi per il torino, l'unico, non vuole venire, non vuole venire, immarcabile, ma riconoscibile, ma riconoscibile, sicuramente... Corrado, Alterini, grande corrado, Alterini, venga signor Corrado sul palco per favore... Che tutti noi a Monteminari conosciamo Cucu... Corri, Corri, Corrado, che è peggio la mia vera... Ci ha accompagnato crescendo con la presenza del bar, la sua gestione, siamo stati tutti con lui, adesso con il mezzo piacere, con il premio alla migliore maschera della serata a Corrado Alterini, il 1970 è con voi... Corrado, 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 Corrado... Se lo dà in capace, è un ragazzo indiscreto, non si espone mai... E nonostante, nasce una bella capillatura...